L'Officina dei Sapori sbarca nella prestigiosa vetrina europea dell'Eurocarne. La Scuola dell'Alimentazione di Sulmona sarà protagonista nell'ambito della sua offerta formativa e nelle aree tecniche e tematiche che riguardano soprattutto i temi dell'alimentazione e la sicurezza alimentare, dell'Osservatorio sulla filiera e delle nuove regole per rilanciare il settore in Italia e in Europa. L'Officina dei Sapori punterà anche la sua attenzione al concetto della nobilizzazione dei sottoprodotti carney, attività che consente agli operatori la possibilità di acquisire ulteriori competenze e capacità nella lavorazione del prodotto in macelleria. È una grande soddisfazione essere stati inviati ufficialmente dall'ente Fiera di Verona ad essere presenti nel contesto dell'Eurocarne 2015. La manifestazione è una delle più prestigiose e importanti al mondo per la sua specificità tematica e per il sistema alimentare umano. L'Officina dei Sapori è stata invitata in quanto rappresenta l'unica realtà formativa professionalizzante italiana che si occupa del mestiere del macellaio, dell'addetto alla macelleria, del macellaio gastronomo e del responsabile del reparto macelleria, commenta in una nota il direttore della Cesco, Tangelo Pellegrino. La partecipazione dell'Officina dei Sapori di Sulmona all'iniziativa della Fiera Eurocarne 2015 consolida una collaborazione con la Fiesa come esercente nazionale e instaura una sinergia strategica con l'ente Fiera che scommette sulla validità dell'evento quale momento d'incontro tra operatori di scambio di esperienze e di professionalità di veicolazione delle proposte commerciali e imprenditoriali. In sostanza si tratta di un'occasione qualificata per la presentazione di nuovi prodotti e processi di produzione e percorsi formativi rivolti soprattutto ai giovani ma con un occhio attento a quanti hanno la necessità, volontà e la possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro con nuove specifiche competenze professionali.